I 18 comuni dell'Unione della Marmilla sono tutti rifiuti free. A decreterlo è stata Lega Ambiente, nell'ultimo dossier Comuni Ricicloni Sardegna. Tutti e 18 i comuni superano una percentuale di raccolta differenziata dell'80% riferiti all'anno 2020. Un importante risultato per la nostra Unione, per tutti i nostri comuni e per tutto il territorio, ha sottolineato il Presidente dell'Unione, Marco Pisano. Una sfida vinta grazie alla collaborazione dei nostri cittadini ai quali chiediamo di proseguire su questa strada e di fare ancora meglio per far lievitare il dato percentuale con chiari benefici che arriveranno anche sulle bollette. I paesi che hanno raggiunto una percentuale di differenziata dell'81,2% sono Las Plassas, Sidi, Barumini, Villamar, Gesturi, Luna Matrona, Furteu, Saramanna, Collinas, Pauri Arbarei, Tuili, Genuri e Villanova Forru. Poi ci sono Sanluri con l'81,3%, Villanova Franca con l'81,4%, Turri con l'81,6% e Sezio con l'83,1%. Infine Segariu con l'80,8%. Non ci fermiamo, ha concluso Marco Pisano. Grazie al nuovo appalto. Abbiamo diffuso un video per sensibilizzare i cittadini ad effettuare ancora meglio la raccolta differenziata e seguirà a breve la carta dei servizi di qualità, ovvero un patto per rispettare le regole tra unione, contribuenti e gestore del servizio. Infine abbiamo deliberato pochi giorni fa in giunta nuovi incentivi per favorire la pratica del compostaggio domestico.